Musica Parte la stagione rally 2014, alle mie spalle la nuova arma di casa Peugeot Peugeot ricordiamo il campione italiano in carica a costruttori, 7 titoli italiani al suo interno Paolo Andreucci e Anna Andreussi, Paolo anche lui 7 titoli di campione italiano rally indubbiamente con vetture diverse La nuova stagione parte, dicevamo, con una vettura completamente inedita La 208 Turbo 16, motore 1.6 sovralimentato, cambia sequenziale a 5 rapporti Dunque una nuova scommessa di casa Peugeot, grande bagarre contro i rivali di sempre, Skoda e Ford su tutti Grazie per la visione